buongiorno da santrino luigi di donato allora questo qua è il 200 watt pannello fotovoltaico più il faro da 200 watt con batteria a litio incorporata abbiamo fatto i video quello da 60 watt da 40 che poi abbiamo visto che costa uguale al 60 questo qua è da 200 watt siccome costa quasi uguale a quello da 100 tanto la lapi facciamo direttamente quello da 200 e facciamo prima allora dalla confezione vediamoci il faro bello grosso questo qua con i led in smd sempre a tenuto a stagna la staffa per il fissaggio ai muri i fischer con questi cosi qua batteria per il telecomando ecco in maniera andata poi abbiamo anche quel telecomando cioè le funzioni in effetti sono tutte le stesse tutte o 60 o 40 o 100 o 200 andiamo sempre con la stessa procedura per la programmazione cioè accensione spegnimento più luce meno luce otto ore 5 ore 3 ore automatica che significa che praticamente come ho detto anche negli altri video automatica si accende quando fa notte e si spegne quando fa giorno e si ricarica in automatico la batteria oppure accensione un manuale poi timer se uno vuoi passare 5 ore accesso 6 ore 8 ore questo qua con l'autodrivo personalmente resta acceso quasi 9 ore allora vediamo un attimo le batterie allora le batterie due mini stilo le batterie piccoline mettiamo due mini stilo e il telecomando telecomando non è che ogni volta che devi accendere il faro devi prendere il telecomando solo la prima volta per il programmato poi tutto rimane tutto memorizzato allora questa è quella accensione massimo della della luce poi c'è metà luce qua aumenta qua diminuisce va bu chiaramente più aumenta la luce più diminuisce il tempo di accensione più diminuisce la luce più aumenta il tempo quindi anziché di 9 saranno 12 13 se è a metà ecco maniera grande allora voglio spegnere altrimenti questo mi abbaglia allora andiamo direttamente a vedere il faro il pannello dalla scatola del pannello ecco questo è il pannello per ricaricare il faro da 200 watt la staffa per il fissaggio eppure qua abbiamo la prolunga da 5 6 metri che serve per distanziare il pannello dal faro non vedo più niente perché quella luce mi abbagliato riesco malappena a vedere qualcosina ok anche qua ha tenuto a stagna per quanto riguarda il cavo il connettore e andiamo ecco come vediamo come ha visto il mio neon acceso qua la luce a led già sta cominciando a lampeggiare quindi sta caricando la batteria prendiamo il telecomando questa qua mettiamo automatica l'automatica dovrebbe accendere quando fa buio vediamo un po' se è vero e infatti ho girato il pannello per simulare che è andato via il sole e si è acceso quando fa gioco si spegne in automatico e si ricarica la batteria a litio la batteria a litio è dentro qua è chiusa dentro qua quindi non si vede quindi quando fa notte si accende quando fa giorno si spegne questa è la situazione abbiamo visto pure il faro 200 watt quante costa 65 euro questo qua il 100 watt stava sui 58 cioè non vale la pena il 100 perché tra 100 e 200 la differenza è minima voglio spegnere perché si è messo negli occhi questo qua allora questo qua costa 65 euro è composto dal pannello, le staff, il faro, delle comande e commegna canna la macchia è giorta le caratteristiche tecniche poi le vediamo nell'inserzione l'inserzione è sotto questo è tutto Luigi di Donato facciamo il filmato più breve ok? ciao a tutti e al prossimo